il codino condizionante salve a tutti benvenuti nel mio canale sentieri del gusto sono lucia e oggi voglio farvi conoscere una pasta pugliese e noi la chiamiamo le troccole come vi ho già annunciato voglio parlarvi di questa pasta pugliese le troccole l'ho messe dietro le ho messe lì ad asciugare anche perché sto preparando un altro video e quindi si faccio due video in uno e quindi voglio parlarvi ora in questo momento anche per igiene e le ho messe dietro quindi le troccole cosa sono le troccole le troccole diciamo che assomigliano oppure possono essere scambiati a degli spaghetti alle spaghetti alla chitarra ma non sono spaghetti alla chitarra guarda sono veramente un è un vanto pugliese è una nostra ricetta gli spaghetti alla chitarra di solito si fanno proprio con la pasta all'uovo insomma è un tipo di formato anche se per fare gli spaghetti alla chitarra bisogna usare lo strumento adatto cioè proprio la chitarra uno strumento per fare la pasta che si chiama la chitarra che io non ho e penso che rimarrà nella lista dei desideri per parecchio tempo però per ora io mi faccio questo piatto pugliese questa pasta fresca pugliese molto insomma abbiamo anche noi in cui abbiamo il nostro spaghetto come si fa con il troccolaturo e questo qui lo vedete sporco mi spiace non ci ho pensato a pulirlo perché pure la fretta di fare il video e insomma sono questo e questo in pratica questo mattarello con queste signature dove in pratica segnandolo comincia a fare il troccolo insomma lo spaghetto dello spessore che che insomma ne richiede la pasta è semplicissimo è tipo una pasta all'uovo ma non è completamente all'uovo perché si completa con l'acqua la farina da usare ovviamente io ho usato quella lì di semola di semola rimacinata pietra ovviamente pugliese rigorosamente pugliese e vi dico in piccoli consigli che posso darvi è che prima di tutto fate riposare la pasta e ottenete veramente ottenere un buon impasto bello sodo da poterlo lavorare veramente in maniera perfetta quasi dura insomma non lasciarlo ovviamente seccare lasciarla seccare soltanto nell'apposito stand di pasta oppure nei vostri taglieri quello che avete io lo stand di pasta ce l'ho apposta perché faccio l'estitazione della pasta per comodità per il fatto che ne faccio un sacco e questo bene per tutta la settimana oppure la regalo insomma e poi mi mantiene ma questo è un altro discorso e anche un altro video quindi ritorniamo ai troccoli troccoli pugliesi dove continuo a ribadire l'uso del troccolatura il troccolatura in pratica bisogna stendere l'impasto un rettangolo almeno di 4 massimo 6 mm tanto poi si riduce dopo il taglio e in pratica si fanno il segmento alcune massaglie molto più brave di me sicuramente riescono a fare il segmento e già fare lo spaghetto io invece da tanti anni che lo faccio perché questo me l'ha regalato un me l'ha regalato su una mia collega all'inizio sposata perchè andò ad albero bello questi oggettini si comprano quelle oggettistiche di casa oppure nei nostri negozietti di souvenir di albero bello si chiama troccolaturo e quindi la faccio proprio da parecchio tempo e quindi ancora il segmento non mi riesce nel senso non non viene proprio bello tagliato così io o taglio con il tagliapasta oppure con il coltello preferisco con il coltello perché è molto più preciso riesco veramente a manovrarlo bene manovrarlo bene quindi condimenti che si possono usare io ne ho fatti parecchio ho fatto pasta e olio e peperoncino classico la sicola gli spaghetti all'anerano ma un classico sugo con le polpette si sposa in tutti in tutte le pietanze spero che questa questa ricetta vi piaccia questo diciamo che è una continuazione della pasta fresca amo fare la pasta fresca in casa peccato che ho proprio tempo per dedicarla ad essa però non mi faccio mai mancare ogni tanto una coccola soprattutto perché arriveranno in previsione arriveranno le feste quindi voglio avere sempre la mia scorta quindi vi lascio alla video ricetta spero che vi piaccia e noi ci vediamo attra a 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